Preoccupa per la sua capacità di diffusione ma fortunatamente non per la sua aggressività. A detta degli esperti, incerto ancora capire come impatterà la nuova sottovariante di Omicron battezzata Kraken, trovata anche in Veneto in due sequenze, una dalla provincia di Vicenza, una da quella di Verona. Si tratta della terza e quarta identificazione dopo quelle già rilevate in provincia di Venezia. Per il momento non è certa l'evoluzione. Ricordo che però altri due casi sono stati trovati il 30 dicembre nella UUSS veneziana. A questo non sono seguiti però un aumento esponenziale di casi. Chiaro che dobbiamo essere come UUSS, come laboratori regionali, assolutamente vigili e quindi continuare la serrata attività di sequenziamento. Dominante negli Stati Uniti, non è detto però che lo diventi anche in Italia. In Italia abbiamo una situazione di immunità della popolazione molto diversa. Il virus è molto circolato, quindi abbiamo una memoria immunitaria molto diffusa nella popolazione e abbiamo anche un buon livello di vaccinazione. Questo non è proprio di tutti i paesi. Ma intanto la diffusione del virus fa i conti anche con gli ingressi dalla Cina a due giorni dall'inizio del capodanno cinese. È chiaro che vengono previsti molti movimenti all'interno della Cina, soprattutto dalle zone urbane e le zone rurali e questo impatterà purtroppo nella diffusione dell'infezione all'interno del paese. Però ci aspettiamo anche qualche movimento internazionale in più.